1-0, vince la Lazio per 3-0 a Bari, tutto nella ripresa, al quarto la punizione gol di Denadai, poi al 38esimo discesa della Lazio promossa da Giordano che non è passato alla Fiorentina in settimana, si è ripreso in tempo utile per portare la sua squadra alla vittoria, ecco l'azione di Giordano, il traversone al centro, gol di Ambu. E poi lo stesso Giordano a minuto dalla fine trova la soddisfazione del gol personale, il quinto in questo campionato di Serie B, secondo dietro Giordano nella classifica.